Salerno, appartamento in fiamme in via Mogavero, nessun ferito. Cambia marcio a Padula, Marco Vegliante è tornato a casa. San Giovanni a Piro, ad un anno dalla scomparsa la comunità ricorda Simone Gauthier, conferita cittadinanza onoraria al giovane e a sua madre. Teggiano, inaugurato ieri il Museo di San Cono. Sassano, questa sera melella in festa presso l'agriturismo orchidea, tra musica, ottime specialità locali e magica atmosfera. Buongiorno e bentrovati con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Incendio ieri pomeriggio in un appartamento di via Mogavero a Salerno. Si è temuto il peggio pensando che all'interno dell'abitazione ci fosse una donna. Per fortuna vi sono stati solo dei danni materiali. Vediamo il servizio. Prima una colonna di fumo che fuoriusciva dalla finestra di un sottotetto, poi altro fumo più scuro dalla finestra dell'abitazione. E' bastato poco che le fiamme avvolgessero un piccolo appartamento di una palazzina di via Giuseppe Mogavero al civico 14 di Salerno. I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio poco dopo le 17 per un incendio che si è sviluppato in un appartamento occupato da una donna. Sono stati i residenti del quartiere ad accorgersi di quanto stava accadendo, lanciando subito l'allarme, segnalando l'incendio in corso e la richiesta di aiuto al centralino dei Caschi Rossi. Si è temuto il peggio perché in tanti erano convinti che la donna che occupa l'appartamento potesse essere in casa. Due autobotti dei vigili del fuoco, la polizia ed un'ambulanza della Croce Rossa inviata in via precauzionale dal 118. I Caschi Rossi hanno raggiunto subito dalla scala esterna della palazzina di via Mogavero l'ingresso dell'abitazione e con una pompa d'acqua si sono fatti strada per entrare, mentre altri vigili del fuoco sono saliti al primo piano aprendo il balcone per intervenire urgentemente nell'appartamento dove si pensava ci fosse una donna che vive da sola di 55 anni. La squadra dei vigili del fuoco si è subito accertata che invece all'interno della casa non ci fosse nessuno, facendo tirare un sospiro di sollievo ai familiari della donna giunti sul posto e ai residenti del quartiere che hanno temuto un tragico epilogo per la donna sola che vive nella casa. Le fiamme che hanno danneggiato solo una parte dell'appartamento, che si sviluppa su due livelli, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, potrebbero essere partite dalla stanza di ingresso. Tra le cause del rogo, scintille innescate dal cattivo funzionamento di un piccolo elettrodomestico, che avrebbero alimentato le fiamme, ma non si escludono comunque anche altre ipotesi. La donna, residente nell'abitazione, è sopraggiunta quando l'incendio era stato già spento dai caschi rossi. L'abitazione al momento è inagibile e non fruibile a garantire l'accoglienza alla 55enne ai familiari. Ed ora il Vallo di Diano con una notizia. Avviate le indagini per capire se l'incendio divampato nel pomeriggio del 1 agosto scorso a Polla abbia provocato danni gravi alla solubrità dell'ambiente e delle coltivazioni circostanti. Questa mattina i tecnici dell'ARPAC al lavoro per effettuare i prelievi dei campioni sui terreni, siti nei pressi della zona industriale pollese e sugli alimenti prodotti nell'area. A darne notizia il Vicesindaco Massimo Loviso, che all'indomani dell'incendio si è subito attivato per richiedere le verifiche ambientali necessarie a scongiurare qualsiasi ipotesi di rischio per la salute dell'ambiente e di tutti i cittadini. Questa mattina i tecnici dell'ARPAC hanno così raggiunto Polla per effettuare dei campionamenti e successive analisi rese necessarie dopo che lo scorso 1 agosto presero fuoco diverse balli di rifiuti custodite all'interno dell'impianto SRA-SRL, sviluppo risorse ambientali, ubicato nella zona industriale e che si occupa della selezione e della valorizzazione dei rifiuti. Ora bisognerà attendere l'esito delle analisi sui prelievi effettuati dai tecnici dell'ARPAC per capire se le fiamme sprigionate dai rifiuti stoccati presso l'impianto abbiano provocato danni all'ambiente. Ed ora cambiamo argomento. La cronaca, arrestati due pregiudicati residenti a Torchiara e ad Agropoli. Detenevano, vendevano, cedevano, trasportavano quantità di sostanze stupefacenti in diversi comuni della zona. Sono ora gli arresti domiciliari. Detenzione ai fini di spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale messa dal Tribunale di Vallo della Lucania, hanno tratto in arresto due pregiudicati residenti a Torchiara ed Agropoli. I due pusher in concorso fra loro detenevano, vendevano, cedevano e trasportavano quantità di sostanze stupefacenti tipo cocaina, ascisce e marijuana nella zona di Torchiara e dei comuni limitrofi. L'articolata attività di indagine svolta dal nucleo operativo radiomobile della Cilentana ha consentito a seguito di perquisizione domiciliare il rinvenimento e sequestro di ulteriore sostanza stupefacente. Entrambi i destinatari della misura cautelare sono stati ristretti agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Questa mattina a Sala Consilina si sono riuniti i sindaci del Comitato del Distretto 72. L'incontro è stato organizzato per parlare delle misure anti-Covid, da mettere in campo in particolar modo per quel che riguarda i momenti di intrattenimento. Durante la riunione è stata ribadita la necessità di un'azione sinergica a fronte di un generale atteggiamento di rilassamento. Tutti i primi cittadini si sono quindi trovati d'accordo su un'adozione uniforme delle norme anticontagio e sulla fermezza con cui vanno applicate. Un secondo incontro si terrà per incontrare i vertici dell'ASL e le forze dell'ordine per coordinare maggiormente la collaborazione tra enti. Ed ora ci spostiamo a Padula. In tantissimi erano presenti in Certusa sabato per assistere al rientro a casa di Marco Vegliante che in sella la sua bicicletta ha attraversato l'Italia per promuovere la ricerca sul cancro e sulla prevenzione. Vediamo. Obiettivo raggiunto per Cambia Marcia, l'iniziativa intrapresa dal padulese Marco Vegliante è partito in sella alla sua bicicletta di nome Vittoria da Milano lo scorso 11 luglio per raggiungere la Certosa di San Lorenzo dopo aver superato sei regioni e pedalato per oltre 1500 chilometri. Sabato scorso Marco è rientrato nel suo paese d'origine atteso da familiari, amici e da quanti lo hanno sostenuto durante il viaggio nato con lo scopo di promuovere la ricerca sul cancro e la prevenzione ma anche di veicolare un messaggio di speranza dedicato a tutte le persone che stanno lottando contro questo male. Obiettivo raggiunto in quanto sono stati raccolti oltre 13.000 euro su un totale di 10.000 previsto che andranno a sostenere le iniziative e la ricerca dell'AIRC. Nel corso dell'incontro svoltosi in Certosa Marco ha ribadito l'importanza del messaggio che il viaggio intendeva veicolare ricordando lo slogan non fermarti davanti alla salita, cambia marcia e continua a pedalare. È stato un viaggio sicuramente lungo però molto intenso, piacevole alla fine ho attraversato l'Italia quindi ho visto dei posti bellissimi ho incontrato persone molto disponibili, solitari che mi hanno oltre accompagnato nel viaggio anche accompagnato in quello che era il mio scopo quindi divulgare il messaggio contribuire alla raccolta fondi e alla fine la cosa bella è stata quella di trovare solidarietà ovunque sia stato ed è sicuramente una ennesima nuova bella scoperta. L'importanza del messaggio è quella, come dicevo, di non mollare mai di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà che può essere qualunque per me è stata il tumore ma non c'è solo questo qualunque tipo di difficoltà va affrontata con uno spirito positivo pensando che si può superare non facendosi abbattere e cambia marcia alla fine è semplicemente un'impostazione mentale perché se la ricerca è sicuramente importante per guarire ma quello che noi possiamo fare oltre ad affidarci appunto agli esperti, agli scienziati, ai ricercatori è restare positivi, non lasciarsi abbattere questo è quello che noi come singoli possiamo fare il cancro ti toglie insomma tutto e lo spirito non dobbiamo farcelo togliere dobbiamo tenercelo stretto e quindi poter dare la mia testimonianza per aiutare magari gli altri è quello che un po' mi ha mosso poi a voler raccontare quella che è stata la mia storia poi insomma deciderla di farla in bicicletta perché penso che la bici rappresenti la metafora perfetta della fatica, dello sforzo fisico e mentale di affrontare la salita ma poi quando si arriva in cima è bellissimo Andiamo avanti ieri 9 agosto, giornata di lutto e di ricordo a San Giovanni Appiro dove la comunità si è riunita in memoria di Simon Gutti e il giovane escursionista francese morto tra le montagne del Cilento Consiglio comunale monotematico alla presenza della madre del giovane Il 9 agosto dello scorso anno un giovane escursionista francese Simon Guttiè perde la vita tra le montagne del Cilento e precisamente nel territorio di San Giovanni Appiro mentre era impegnato in un'impresa che doveva rivelarsi epocale una tragedia che nella giornata di ieri l'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro ha voluto ricordare stringendosi al dolore della famiglia ad un anno dalla sua morte nei giorni scorsi la madre di Simon Delphine Godard accompagnata dalla figlia e dal compagno ha raggiunto la piccola località del Golfo di Policastro dove è stata accolta con grande affetto dalla comunità che insieme a lei nella giornata di ieri ha pianto e ricordato il giovane escursionista che dimostrando un grande interesse per la costiera cilentana aveva deciso di intraprendere una suggestiva avventura che purtroppo gli è costata la vita a seguito di una tragica caduta a pochi passi da pianoro di Scario la giornata in ricordo di Simon Gauthier è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale di San Giovanni Appiro che per l'occasione ha anche voluto riconoscere e consegnare la cittadinanza onoraria a Simon Gauthier e a sua madre Delphine in un consiglio comunale monotematico svoltosi nel pomeriggio e conclusosi con la consegna alla signora Godard del gagliardetto del comune e dei documenti che certificano le cittadinanze onorarie per lei e suo figlio Simon Le motivazioni spiegate dal sindaco sono legate innanzitutto all'amore che il giovane escursionista francese aveva dimostrato per la terra cilentana nell'intraprendere l'avventura che purtroppo si è poi conclusa tragicamente lo stesso amore che sua madre nonostante la tragicità degli eventi ha continuato a dimostrare nei confronti della comunità san Giovannese inviando aiuti durante l'emergenza Covid Dopo la cerimonia di riconoscimento della cittadinanza onoraria la comunità e la famiglia di Simon Gottier si è spostata in località Pianoro di Ciolandrea dove fu ritrovato il corpo senza vita del giovane e dove è posizionato un sasso con sopra inciso il nome a eterna memoria del giovane che da ieri insieme a sua madre è parte della comunità di San Giovanni a Piro ieri a Teggiano è stato inaugurato il museo di San Cono in via Vincenzo Dono nel centro storico arte sacra e documenti mai esposti prima un luogo dal grande valore culturale e soprattutto religioso ieri taglio del nastro a Teggiano per il nuovo museo di San Cono la cerimonia di inaugurazione avvenuta nel giorno del tradizionale pellegrinaggio quest'anno sospeso a causa della pandemia del quadro di San Cono da Teggiano al monastero di Santa Maria di Cadossa Montesano sulla Marcellana con la nascita del nuovo museo si aggiunge un altro tassello importantissimo al grande patrimonio culturale e religioso della città fortemente voluto da Cono di Sarli dal comitato feste presieduto dal parroco Don Giuseppe Puppo e dal vescovo padre Antonio De Luca il museo è frutto come ci racconta lo stesso Cono di Sarli di un lungo lavoro di ricerca che ha visto la luce soprattutto grazie al contributo volontario di alcune persone aziende ed imprese che ne hanno reso possibile la realizzazione il museo ubicato in via Vincenzo Dono nel centro storico di Teggiano è ospitato dai fratelli Antonio e Gennarino Paduano che hanno donato il locale nel ricordo della loro mamma rosa grande devota del santo teggianese lo spazio allestito dall'altissimo valore storico culturale e spirituale offrirà ai visitatori uno spaccato storico capace di esaltare la piena bellezza ed importanza dell'arte sacra dianese sarà possibile infatti ammirare documenti sin oramai esposti che testimoniano la devozione del popolo teggianese dal 1261 ad oggi in esposizione anche la copia del decreto ufficiale di santificazione di cono e la proiezione dell'unica copia del primo documentario della festa di san cono realizzato dall'istituto nazionale luce nell'anno 1954 dopo la benedizione del taglio del nastro nella piazza principale è seguita la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo museo la giornata dedicata a san cono si è conclusa con la santa messa celebrata dal parroco della cattedrale don giuseppe puppo che durante l'omelia ha esortato i fedeli ad affidare a dio a san cono le tante paure che oggi affliggono la comunità attraverso il momento intenso di un pellegrinaggio quest'anno ancora più profondo ossia quello del cuore cambiamo argomento il nuovo decreto legge di agosto secondo indiscrezioni prevede 3 milioni di euro per il bonus casalinghe vediamo a cosa è destinato il servizio nel nuovo decreto legge di agosto ci sarà anche un bonus per le casalinghe una indiscrezione che ha incuriosito migliaia di donne nelle ultime ore in sostanza si tratta di denaro da investire per corsi di formazione e opportunità culturali un fondo che cercherà di livellare le opportunità e l'inclusione sociale delle casalinghe e di tutti i cittadini che lavorano in ambito domestico attuando delle attività senza vingolo di subordinazione a titolo gratuito destinate alla cura delle persone e degli spazi domestici in collaborazione con enti pubblici e privati da destinare a chi svolge questo tipo di attività al momento non ci sono ulteriori informazioni utili in merito entro il 31 dicembre 2020 arriverà un apposito decreto che spiegherà tutte le modalità sarà il ministero delle pari opportunità a decidere i criteri per la selezione delle persone che potranno ricevere questo genere di bonus e come si potranno presentare le domande ad oggi trapela che nel decreto legge di agosto sono stati inseriti 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe al fine di attivare percorsi volte a favorire l'acquisizione di nuove competenze e l'accesso a opportunità culturali e lavorative ed ora qualche minuto specialità specialità tipiche della tradizione locale questa sera ultimo appuntamento della suggestiva e allegra iniziativa promossa presso l'agriturismo Orchidea luogo incantato dalla magica atmosfera situato in località Melelle verso la valle degli Orchidea Sassano la bellezza dell'area unita al caratteristico agriturismo e la magica atmosfera che riescono a ricreare i titolari Antonella Bruzzese con l'importante aiuto del marito Ottavio Russo e della figlia Angela Russo rappresentano un mix perfetto per trascorrere delle meravigliose serate capaci di rallegrare e allo stesso tempo di rasserenare soprattutto dopo la fase di emergenza affrontata tornare a divertirsi e a trascorrere serate di allegria in tutta sicurezza è possibile la dimostrazione arriva proprio dall'iniziativa Melelle in Festa che si conclude questa sera presso l'agriturismo Orchidea dove oltre ad un ampio spazio allestito nella parte esterna della struttura è possibile anche poter prenotare un tavolo nella suggestiva terrazza dell'agriturismo dove sarà possibile degustare le ottime specialità biologiche dalla qualità attentamente controllata in una magica atmosfera allietata poi dalla musica anche di Agostino Lacave e della sua band che rende difficile fermare la voglia di ballare l'iniziativa partita sabato scorso e che si conclude questa sera consente ai visitatori di trascorrere serate speciali in mezzo alla natura degustando tantissime specialità che rendono difficile una scelta partendo da un ricco antipasto e passando per i fusilli al ragù una vasta scelta di secondi come salsiccia arrosto di maiale spezzatino carne tutta attentamente selezionata dalla qualità garantita a cui si può abbinare il contorno di patatine e poi dolci e ottimo vino locale insomma gli ingredienti ci sono tutti per trascorrere una serata indimenticabile e magica tra la natura in un luogo suggestivo accolti dal calore di Antonella Ottavio e Angela in questo ultimo appuntamento di melelle in festa presso l'agriturismo Orchidea e per chi vuole rendere ancora più speciale la serata è possibile prenotare il tavolo in terrazza contattando direttamente i titolari dell'agriturismo i cui numeri sono pubblicati sulla pagina ufficiale di Facebook Ed ora un'altra notizia questa mattina a Salerno la presentazione dei dati del monitoraggio effettuati lungo la costa campana da Goletta Verde la storica campagna di lega ambiente dedicata all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque 13 punti sono stati monitorati nella provincia di Salerno e di questi 5 sono risultati fortemente inquinati il punto alla foce del torrente Dragone nel comune di Atrani il punto alla foce del fiume Irno sul lungomare età furi di Salerno il punto alla foce del fiume Picentino tra Salerno e Ponte Cagnano Faiano il punto alla foce del torrente Asa sul lungomare Magazzeno a Ponte Cagnano Faiano e il punto alla foce del canale di scarico alla marina di Eboli tre invece gli inquinati il punto alla foce del fiume Tusciano fra Ponte Cagnano e Battipaglia il punto alla foce del rio su via Poseidonia in località Laura nel comune di Capaccio il punto alla foce del fiume Solofrone fra i comuni di Capaccio e Agropoli entro i limiti invece tutti gli altri punti il punto sulla spiaggia di via Mantegna Salerno il punto alla foce capo di fiume fra Capaccio e Agropoli il punto in spiaggia in località Caprioli nel comune di Centola e il punto in spiaggia di fronte a Rio Cavafave in località Billammare nel comune di Vibonati ed ora proseguiamo la pandemia non ha affermato il turismo nel salernitano in questo mese di agosto ma il vero banco di prova detta degli albergatori sarà il prossimo mese di settembre capiamone di più nel prossimo servizio Per ora dati da prendere per le pinze il vero banco di prova per il turismo nel salernitano sarà a settembre l'aumento di turisti negli alberghi ad agosto in particolare nella settimana di ferragosto era prevedibile ed è quello che sta accadendo mancano però specialmente in costiera amalfitana gli stranieri in Cilento si registra già qualche sold out a Salerno invece volendo prenotare su Booking una camera per due persone dal 9 al 16 agosto risulta prenotato il 98% delle strutture ricettive tra hotel e b&b tuttavia per un'analisi corretta bisogna prendere in esame giugno e settembre quando ci si rende conto davvero delle differenze tra quest'anno e lo scorso il problema chiariscono alcuni titolari di strutture ricettive sarà da settembre avevamo presenze che arrivavano a picchi del 70% con clientela estera che quest'anno non ci sarà ma non tutto è perduto perché il post fase acuta della pandemia può rivelarsi un'opportunità per conquistare nuove fette di mercato tanti italiani precisano gli albergatori sono venuti alla scoperta dei nostri territori e potrebbero diventare fedeli clienti di queste zone perciò dobbiamo stringere i denti e arrivare al prossimo anno e sperare che non accada più nulla non resta che aspettare i prossimi mesi per tirare le somme e fare le prime stime di ciò che doveva essere e che causa pandemia non è stato giovedì 13 agosto a Sanza si racconta la storia delle radio libere e di Radio Sanza un luogo di aggregazione dei giovani ma anche un laboratorio politico e culturale vediamo dalle radio libere a Radio Sanza il tema dell'incontro culturale in programma giovedì 13 agosto in piazza plebiscito alle 21 promosso dal consigliere comunale con delega alla cultura Antonella Conforto l'iniziativa sarà l'occasione per celebrare le radio libere e la rivoluzione nella comunicazione che interessò il paese a metà degli anni 70 e per raccontare l'esperienza straordinaria di Radio Sanza al laboratorio di aggregazione sociale e politica la tavola rotonda vedrà gli interventi del sindaco Vittorio Esposito del consigliere comunale Angelo Marotta del giornalista radiofonico Lorenzo Peluso dello speaker Tonino Lupino e di tutti coloro che presero parte dal 1975 alla fine degli anni 80 all'esperienza straordinaria di Radio Sanza al termine del dibattito sarà posta una targa ricordo nel vicolo di piazza plebiscito dove ebbe sede la storica radio nel 1975-76 il panorama della radio italiana cambia in modo radicale e duraturo segnando la rottura di un monopolio pubblico nato 50 anni prima aprendo spazi inattesi a iniziative di volontariato e di imprenditorialità diffusa le radio libere in provincia nascono anche per un impegno politico da un desiderio di espressione che non trova spazio nell'associazionismo culturale a Sanza la radio divenne non solo il luogo di aggregazione dei giovani ma anche il laboratorio politico e culturale che fece da apripista ad una nuova esperienza amministrativa che poi segnò gli anni 80 a 40 anni dal terremoto del 1980 l'osservatorio sul dopo sisma della fondazione Mida pubblica il libro dal titolo terremoto 20 più 20 ricordare per ricostruire è stato presentato a Palomonte sabato scorso la pubblicazione raccoglie alcuni degli studi pubblicati in questi anni e nuove ricerche e nuove considerazioni che abbracciano vari settori quali la storia l'antropologia l'ingegneria la medicina veterinaria e alcuni reportage giornalistici l'opera è frutto del lavoro dell'osservatorio sul dopo sisma che è attivo da circa 10 anni e che ha come oggetto di attenzione i cambiamenti sociali che avvengono nelle comunità a più livelli dopo un terremoto ascoltiamo alcuni degli autori intervenuti alla tavola rotonda di sabato ovvero Raffaele Bove Raffaele Talateta Simone Valituto e Stefania e Stefano Ventura ascoltiamoli per ricostruire è un libro che raccoglie diversi saggi che alcuni sono recenti e scritti negli ultimi mesi altri risalgono a qualche anno fa e vengono fuori dall'esperienza dell'osservatorio sul dopo sisma che è un'esperienza di circa 10 anni che va avanti da circa 10 anni a questa parte ed era il modo che l'osservatorio sul dopo sisma ha scelto per commemorare il quarantesimo anniversario che verrà a novembre è importante commemorare non solo in maniera asettica e come dovere ma anche per un'utilità che può essere quella di evitare gli errori che in questi 40 anni sono stati commessi la prevenzione sismica è un concetto oggi fondamentale ed è un concetto che deve riguardare sostanzialmente due componenti principali uno la politica e l'altro il cittadino utente quindi l'insieme del cittadino utente è necessario fare questo salto che è culturale per capire che il sisma non uccide ma uccide le opere in cui noi ci troviamo fare prevenzione e fare interventi a valle di questa attività di analisi e valutazione significa migliorare o annullare la vulnerabilità e quindi mettere in sicurezza le opere in cui viviamo i manufatti in cui viviamo e l'utenza tutta per Luigi Cappello ha ispirato quest'opera di Albero Nero dispositivi di visione che ci permette di osservare il paesaggio in maniera differente attraverso diverse angolazioni e forse anche questo è un modo per ricostruire i nostri paesi terremotati osservare in maniera diversa ciò che abbiamo attorno per capire anche in realtà cosa siamo e cosa siamo stati è un po' il tentativo che faccio nel mio contributo al volume appunto racconta un po' come un antropologo io sono un antropologo si approccia all'ufficio di costruzione e come anche tante altre attività di questa giovane amministrazione come un progetto su Sulti che è legato a queste opere a queste installazioni artistiche o anche il tentativo di costruire una nuova scuola un nuovo edificio scolastico debbano fare i conti con gli strascichi di ciò che quella scossa il 23 novembre ha generato nel terreno di questo libro raccontiamo la storia della disastrogia veterinaria quando nel 1980 appunto il professore Adriano Montomani fu chiamato direttore generale dei servizi veterinari del ministero a lavorare nelle zone terremotate per mettere in sicurezza gli animali per il ricovero degli animali per assicurare la sicurezza alimentare in quel momento nel 1980 la parte veterinaria e la parte medica mettono i semi per quello che noi poi abbiamo scoperto e chiamato la One Hilt la One Hilt o la One Medicine è l'integrazione tra la medicina veterinaria e la medicina questa sinergia in situazioni di emergenza da un effetto resiliente e aiuta le popolazioni a superare i momenti di crisi e con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata qui, per l'attenzione e vi auguro per l'attenzione di crisi